salve ragazzi benvenuti un nuovo tutorial sulla html ho ripreso l'esercizio precedente per inserire all'interno del body una frase e vedere un po come poter formattare questa frase in questo momento gli elementi che sono che troviamo qui dentro sono gli stessi dell'esercizio precedente quindi i meta possiamo andare a cambiare per esempio qui anziché tag di intestazione e body metteremo per esempio i tag per la formattazione per dire cosa contiene il nostro la nostra pagina vi ricordo che i tag meta non hanno nessuna influenza sulla pagina così come la vediamo ma serviranno soltanto come indicazione per chi leggerà questo codice per esempio per sapere l'autore o il copyright oppure nel caso delle ricerche sui motori di ricerca attraverso le keywords andiamo quindi alla parte che riguarda il body in questo momento ho stabilito alcuni attributi per il body che sono il colore di sfondo il colore del testo e i margini e all'interno ho copiato la solita frase lorem ipsum eccetera eccetera che si utilizza sempre andiamo a vedere nel nostro browser cosa succede lanciando questo questo programmino chiamiamo programmino anche se vi ricordo non è un linguaggio di programmazione apro il browser e vado a copiare il mio percorso ecco qui è la frase che abbiamo scritto all'interno del body quindi riprendendo il codice vedete che tutto ciò che è è contenuto fra il tag body e il suo tag di chiusura viene rapportato così com'è ma guardiamolo un attimino e come vedete va a capo da solo non appena arriva al bordo per poter mandare a capo una riga dobbiamo inserire un tag che è chiamato break br per esempio in corrispondenza di questo punto andiamo a mettere il tag br salvo faccio il refresh e come vedete è andato a capo quindi provo a metterne un altro possiamo metterne quanti ne vogliamo ne mettiamo un altro qui il tag br non ha chiusura salvo salvo e vedete che va a capo il fatto che vada a capo non vuol dire che questi siano uno due tre paragrafi perché in effetti è un unico paragrafo un unico discorso se noi volessimo invece far creare una serie di paragrafi andiamo a vedere un po come si fa riprendo il mio codice il paragrafo viene indicato vado all'inizio con la lettera con il tag p che si aprirà all'inizio del paragrafo e si chiuderà alla fine del paragrafo vediamo cosa è cambiato in effetti non è cambiato nulla proviamo a creare due paragrafi quindi questo stesso io lo copio qui sotto due volte salvo e vedete che con p ho identificato tre paragrafi tra un paragrafo e l'altro viene lasciata una linea vuota quindi abbiamo visto il br per andare a capo e p per identificare il paragrafo ora in effetti a volte per identificare un paragrafo oltre a p viene utilizzato anche il div mettiamolo mettiamolo al posto di questa p anche come tag di chiusura e vediamo un po cosa succede ctrl s qui manca il minore scusate e andiamo a rilanciare f5 come vedete qui fra questi due paragrafi non c'è più la linea vuota perché? perché la p il paragrafo il tag del paragrafo va a capo e lascia una riga vuota mentre il tag d va a capo e non lascia nessuna riga vuota ma in effetti la differenza fra i due non è questa il fatto è che div non viene utilizzato per formatare il testo ma perché all'inizio vi ho detto che una pagina è formata da una serie di settori di contenitori e il div ci identifica uno di questi contenitori quindi in effetti non è un paragrafo perché al suo interno potrebbero esserci paragrafi così come potrebbero esserci altri elementi che poi andremo a vedere in seguito potrebbero esserci immagini potrebbero esserci altre cose quindi ritornando al nostro codice all'interno di div andiamo a mettere anche un paragrafo qui e chiudiamo il nostro paragrafo anche qui vediamo si sono ricreati i paragrafi quindi il div in effetti mi ha creato due settori chiamiamolo così questo è il primo corrispondente al primo div e questo al secondo viene utilizzato in modo particolare quando gestiremo più avanti i fogli di css quindi momentaneamente vado a togliere il div per vedere quali sono gli attributi che ci da il nostro paragrafo il paragrafo in effetti ha un solo tag che è la line che mi permette di allineare il testo al margine sinistro oppure destro o al centro o giustificato andiamoli a provare qui metteremo un align uguale center qui metteremo align uguale left qui align right e copriamone copriamone un altro in cui metteremo l'allineamento invece giustificato giustificato salviamo vediamo cosa è successo come vedete il primo paragrafo è giustificato al centro questo a sinistra questo a destra e questo invece è giustificato cioè il primo carattere in colonna e l'ultimo carattere in colonna a meno che come in questo caso non c'è un br che porta a capo la riga un altro tipo di paragrafo è il blocco quote lo scrivo qui blocco quote vedete come suggerimento chiaramente devo andarlo a chiudere blocco quote vediamo vediamo cosa succede e vedete che il blocco quote mi ha creato un paragrafo che è rientrato verso destra rispetto agli altri quindi ricapitolando uno dei tag uno dei tag all'interno del body è il tag per poter andare a capo tag senza chiusura quindi minore br maggiore che permette di creare un'interlinea fra quello che c'è prima e quello che c'è dopo il tag P di apertura e chiusura il tag P permette di creare un paragrafo che lascia quindi un'interlinea vuota tra il paragrafo precedente e il paragrafo successivo il paragrafo permette di allineare appunto il testo in esso contenuto con l'attributo align al centro con center a sinistra con left a destra con right justify giustifica il testo un altro tipo di tag per quanto riguarda i paragrafi è il block quote anche questo con l'apertura e la sua chiusura vedete qui la chiusura il block quote funziona allo stesso modo di P solamente che il paragrafo viene rientrato di cinque spazi di cinque pixel sulla destra abbiamo visto anche che molti utilizzano il div per evidenziare un paragrafo ma in effetti il tag che viene utilizzato non è il div perché il div serve per creare una zona virtuale una scatola virtuale all'interno della nostra pagina chiamiamola un contenitore all'interno della quale potrà essere inserito un paragrafo o un testo in generale formattato in modi diversi questo è quello che riguarda questo tutorial ci vediamo al prossimo tutorial 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12